L'annuncio è questo Offresi, sbarra, impostosi, sindaco Vota Antonio, vota Antonio La gente arriva ogni fine del mese sempre più povera una goccia alla volta ti tolgono tutto il sangue Con cittadini! E sto parlando per gente che si è rotta il cazzo Amici! Ma io voglio una cosa, io voglio tutto il potere Paesani, con paesani italiani Non è che sarò un monarca del tutto però quasi La condizione in cui stiamo e dalla quale usciamo pretende che ci sia un monarca In questo momento cruciale per la vita del nostro paese Logisticamente non è che mi faccio chiamare re Io lo so, io sono un re Bisogna separare il bene dal male Signor capo, signor re, come mi vuoi chiamare? Il vero dal falso Ma, ognuno è libero di chiamarmi sindaco Signor sindaco, va benissimo Basta che ci sia l'autorità e il rispetto che mi competete Se io mi dicessi Prendete i megafoni e girate E mette il fattore in rete E su YouTube, eccetera Una notte alle 3 di mattina Girate tutti i vostri Mettete l'affisso su ogni porta Candidato sindaco, eh? Che una volta eletto Mi batterai per rocca secca Non candidato, eh... Sindaco... Procurata, sì Procurato sindaco Nostro amato paese Arriverà una barca di soldi Ti finanzia la regione Fare costruire scuole Sei tutto tuo Ti compro la macchina Tutto Strade Primo comune Sarà a reticene No, mo vediamo Questo che combina Poi quando la gente vedrà Nei comuni intorno Oh, guarda questi come vivono Acquadotti Subito diranno No, no, sindaco Vieni dalla nostra Fai da noi Il sindaco E poi sarà tutto a catena Ma di lì è fatta Si crea la maggioranza Ci si presta davanti al comune Si disloca L'attuale giunta comunale che c'è E ci si innesta nulla Ministerio di Cultura Afuera Ministerio di Ambiente e Desarrollo Sostenibile Afuera Con i consiglieri che io decreterò E se io vi dicessi Che questi signori Sono persone onorevoli Degne di freggiarsi Di quest'appellativo parlamentare E che adopereranno i vostri voti Per i beni del paese Voi mi credereste? Sì Con gente seria che mi aiuterà Quindi nel comune che mi chiama Link in descrizione Per l'offerta del sindaco Quel comune parte a manetta Subito Si chiede il finanziamento Il giorno dopo Si va in provincia Io con una schiera di Di seguaci Di attivisti popolari La prima cosa che farò Sarà di liberare Ogni tassazione Il primo punto Meno tasse Punto secondo Il secondo punto Meno tasse Perché io dovrò gestire Mille persone Cinquemila Non lo so quante saranno Dopodiché Risistemi Risistematizzazione Tutto questo Che cosa condurrà? Condurrà una grande felicità Nella gente Tra le tante cose Secondo verrà creato Un dispositivo Telefonico Che fa soltanto questo Vedi Sto in televisione qua Ehi Ehi Tu Saluda Grazie mille Riceviamo i finanziamenti Tu hai tutti i mezzi Hai la casa sistemata Tutto Case Case E l'automobile Tutto quello che ti serve E a me mi è incaricato Dio Di attivare Stasoluzio Aperta a tutti Qualsiasi comune Possiamo andare in Trentino Come nel Friuli Come in Lombardia Noio C'è gara? Nel Molise Nel Puglia Dove volete Basta che ci sia La tesione popolare Tra l'altro C'è un emulatore Su sto computer Della Playstation 1 Anzi Sapete che vi dico Mi ci metto a giocare dopo Sì 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 Sì